Salve a tutti ragazzi ben ritornati qua sul canale di BattleforGames Io sono Carlo e oggi siamo qua su Battlefield 4 per un altro live commentary Torniamo sui live commentary ragazzi Finalmente siamo su Operation Metro E voglio usare la P90 o il P90 secondo me Di come cacchio si dica Perché l'ho appena sbloccata finendo la campagna Quindi dato che non è un cavolo ci mettiamo giusto la mimetica Vediamo Ci sta dai Che dite ragazzi ci sta? Si dai ci sta Accessorio non ho niente quindi direi che sia perfetto Vai cominciamo subito su Operation Metro Quindi sarà un casino allucinante Non l'ho mai usata sta Non ve lo dico ragazzi Siamo su conquista penso Mi hanno appena cecchinato con un M60 Quindi direi che sia tutto più che normale Però mi hanno rianimato Però ce la fugo Me la fugo totalmente Sono abituato a giocare alla campagna Perché ultimamente ho finito la campagna E sono abituato ad andare tutto avanti A cazzo fare alla Rambo no? E suicidarmi Quindi magari moriremo tipo 1500 volte Però io non mi interessa Voglio fare un live commentary Perché mi manca fare questi video E per variare un po' da Tiff Che ormai abbiamo fatto tipo 6 video di Tiff Una roba del genere Mi raccomando ragazzi Fatemi sapere se vi piace la serie Però per tornare un po' a battaglia Perché mi manca Facciamo questo video Allora Cerchiamo di concentrarci Siamo dei No non siamo dei medici Mi è andata male Sono un geniere Fottuto geniere Allora Però ho un RPG Potremmo fare i nabbi E cacchio sono i nemici ragazzi Ah qui dentro Sbam No eh Troppo facile la cosa ragazzi Sono preso Ma dove cacchio Non ci posso credere Ma quelli sono nemici È impossibile Come mi ha fatto a uccidere quello? Si è buggata Mi sa la Killcam Allora Ci guarda la calma ragazzi Ci giuro che ti tiro una missilata Prima che viene fuori lì Non ci credo Me la sono tirata addosso Allora C'è un casino Fugatela Ah no Non posso ricaricar Cioè Non devo ricaricarci 50 colpi Il P90 Via 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 delle palle Perché non mi Spotta i nemici Porca troia Via Mi serve un medico Necessita un medico Ok vai Ti sposti Amico mio caro Grazie Granata random Granata lì Random Aia Mi ha fatto un male bestia Non capisco Ok ragazzi Facciamo il Se ti sposti Mi fai un Fottuto blocker Ok Facciamo il giro Dall'altra parte Cercando di morire Si di morire Mi raccomando Mi raccomando muori Allora Là ce ne sono Un tot Vai 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 che non muori Perfetto Eccolo Eccolo Ragazzi Non so più giocare a battlefield Mi ha rianimato Vai 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 Fugatela C'era un medico Grazie Allora Ci vuole della calma Ragioniamo E facciamo ninja Come al mio solito fare No 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 Vaffanculo Ragazzi Non so più giocare a battlefield No forse perché non mi trovo Con la p90 Con sto mirino di mer No Non capisco dove sono i nemici Ragazzi Più caldo Ti smaccanti cavolo Di blocker ci sono Io che sto qui camperato Finché non entrano Noi Sopressione Giusto così No ragazzi Sopressione E quella Mamma mia Se mi è andata bene Mi serve Se mi è dato un Non ci posso credere Me la son vista arrivare Ma perché mi arriva Ci sono spam Solo delle granate In sto server ragazzi In sta mappa Più che altro Allora Che cazzo fa quello Che si teletrasporta L'avete visto ragazzi Metterò un replay Allora Mi sto inizando a incazzare Sì Uno l'abbiamo fatto fuori No scoop Forever Vai Allora Eccolo No dai Lasciamola Eccolo Mi 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 sa che è un po' morto E' un Divo Mi sono visto arrivare La granata in faccia Ma qualche medico C'è Sì sono tutti medici Mi lasciate un kit Medico Dai spostatevi ragazzi Dai Vieni dentro Come fate Non morire Cos'è sto M Devo sbloccare L'M60 E' buggatissimo E' overpower In una maniera assurda Mi hanno Mi hanno Mi hanno Sono morto Dai raga Una kill Una kill Adesso tiro Fai l'RPG Ammazzo tutti Non mi vedono più Perché Sono un ninja Con l'RPG E faccio secchi tutti Volete vedere come si fa Fare un one kill Tipo quello Bam Liscio Tipo Adesso rifacciamo Riprova Sarai più fortunato Tipo Quello Bam Morto Facciamo i nabbi adesso Mi Mi insulteranno in chat Pesantemente Aia 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 Da ma perché la gente Deve stare sdraiata Per terra Con calma Prima di andare giù Sì Massacro giù Non ci posso credere Che smirata ragazzi Aia Aia Quello lì mi uccide No 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 Non ci credere Ma è troppo overpower L'M60 ragazzi È troppo overpower Allora ho fatto due kill Due kill Quindi Ne mancano ben otto Se la matematica Non è un'opinione Peccato che per me lo è Quindi Niente mai detto Sì Tre Ho fatto Il suicida Vai Faccio così No Quasi doppia Però ne manca un po' Ho capito come si usa il P90 No scoop E ti suicidi Che cacchio di pistola è Vai quella che avevo sbloccata anch'io È vero Non l'ho mai usata però Oh mio dio Spon di merda Ragazzi Spon di merda Vai Proviamo di nuovo Proviamo di nuovo Aia Sì Doppia Ui ho sbloccato un'arma C'è da 3 a 1 Cos'è? Una PDV forse Addirittura ragazzi Tra poco arriva anche il mirino Ah 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 No eh Quello lì Sono Rambo Fino ad un certo punto Vai Rambo vai 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 Sono tutti nostri Siamo riusciti a schiodarci Da quell'angolo Quei cari sono i nemici Dall'altra parte Vai 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 di qua Sono carico adesso ragazzi Non mi vedete più Qui dentro è a sinistra Là Magari sono dietro no? No Due ce n'erano Due ce n'erano di Claymore Neanche una Due ce n'erano Va bene Quanti kill mancano Per quel fottutissimo mirino Di merda Granata random Perché quelli ci sono Un po' troppi Niente Ovviamente le mie granate Non fanno mai Niente 4% di vita No Assistenza come uccisione Ma grazie Almeno mi avete rianimato Mi date un medico Lascio un cecchino Di quelli da paura Troppo difficile È vero darmi un kit medico Mi avete rianimato Sì eh Lo so ragazzi Che è difficile Però No è niente Niente kit medico per me Assistenza come uccisione 98 Qui Minchia Perché Fare una kill Era troppo difficile Ma me le conta Lo stesso come kill Per il mielino Dato che Come uccisione In teoria Io spero di sì Perché la gente Deve stare sdraiata Per terra Spiegatemi Perché uno deve stare Sdraiato per terra Camperato col pipode Con un fottuto mitraione Va ragazzi Non lo so Non ci capisco più niente Di sto gioco Non sono dei nabi Mio Sì 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 Forse me ne manca una Edishot Questo qui era un edishot Di quelli da No Perché mi Vai subito di nuovo Guardate Voila No Sopressione Non ci E questo che mi ha coltellato Da dove è saltato fuori Ragazzi Attenzione E quello Là Mi ha sbloccato un mirino Ragazzi Finalmente Tu sei mio Morirai Uno è mio L'altro ha fatto Assistenza Uscisione Là c'è un altro Attenzione Morirà Perché è mio Morirà Me lo sento Oh Sì Sì Giusto così Mi hanno ucciso Però è giusto così Adesso ci mettiamo il mirino E finiamo il video Facendo strage Me lo sento Già catturata Qui ce n'è uno Attenzione Me lo sono sognata Ah no Eccolo Non ci posso credere Ah ecco Se mi uccideva Giuro che lo esterniamo No L'ho hittato Vabbè assistenza Uccisione Però Medaglia assistenza Uccisione Che culo ragazzi Ho fatto la medaglia Assistenza Uccisione 10.000 No 5.000 punti Beh dai Buono Dovrime essere Ne soddisfatti Vero ragazzi Vediamo se qua c'è Della gente No Aspettate che Vi aiuto a catturare La bandiera No eh Non mi danno punti Piccato Ci sarà ancora Il camper Là sotto Figurati se non c'è Mica il camper Là sotto No ma Non l'avrei mai detto Che c'era il camper Oh bravi ragazzi Che l'avete ucciso Attenzione Ah c'è chi no Fare altri 2-3 chi là No Sono stato promosso Mamma mia Livello 46 Mamma mia Sono stato promosso Sta partita Pacchetto battaglia oro Che magari dopo apriremo Se mi ricordo Oh E lì Quanta gente c'è Ah Grazie amico Che mi hai parato Il culo In una maniera Paolosa Tiriamo un'altra Gannata Lì No Ho cannato Che mi era ragazzi Granate Qualcuno mi dà un medico Grazie Oh grazie amico Almeno qualcuno Che Mi sa che c'è un casino Della madonna Adesso No Ah Ariano dentro Granate Attenzione Oh Tutti i miei Una kill L'abbiamo fatta Però ragazzi Se uscivo dalla parte giusta Mi facevo fare tutti e due Comunque ragazzi Adesso apriamo il pacchetto Battaglio Vediamo cosa troviamo Oh Tanta roba Una mimeticas Una piastrinas 50% plus Cobra per il CBJ Che cacchio è Ah forse Quell'arma che sembra un trapano E luce tattica Per l'M40 Va bene ragazzi Il video si può concludere qua Perché siamo tipo Un miliardo di anni Di video Quindi mi raccomando Lasciate un bel like Se il video vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Commentatemi Questo video Iscrivendomi Se voletevi il ritorno Dei live commentary Tipo questo Con anche altre armi Ok basta Non gioco più Quindi mi raccomando Iscrivetevi Commentate E lasciate un bel like Con questo io vi saluto Ciao ragazzi Ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi